un saluto cari amiche e cari amici vi invito sempre iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella mettere i vostri like ai miei video non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione ma mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube cerchiamo di salire da quella quota che stiamo sfiorando 153 mila cerchiamo di andarci la palla di pelle rassegna stampa di oggi domenica 18 agosto 2024 la prima domenica dopo la il debutto in campionato bei sei minuti usciamo contenti per il pareggio ma delusi dal primo pareggio casalingo contro un torino che anche lui è un è un cantiere aperto speravo di più proprio sul piano dei singoli molti giocatori non mi sono piaciuti sul piano delle scelte delle posizioni non mi è piaciuto qualche non mi è piaciuta qualche decisione di fonseca ma andiamo avanti con anzi cominciamo con la rassegna stampa la gazzetta dello sport turam c'è ma l'interno partenza non da campione gol e brividi a san siro super toro cuore milan vediamo cosa dicono di quel super toro il gioco divanoli e zapata spingono il granata sul 2 a 0 fonseca gira la gara con morata e ocafor e al 95 arriva il 2 a 2 sull'autolete di ciao gol non la line technology in tilt questa qui è veramente una cosa allucinante l'abbiamo visto quasi dal dal vero che era gol milan salvo solo al 95 grande toro zapata spinge granata sul 2 a 0 fonseca respira grazie a ocafor andiamo vediamo cosa dice ancora dalla gazzetta mi interessano i voti della gazzetta così praticamente andiamo a andiamo a rivivere la partita fonseca la partita fonseca milan passivo voglio una squadra più aggressiva leao meritava il gol andiamo alle pagelle fonseca se l'emager terzino sinistro e il trio delle presunte meraviglie dietro a jovic non funzionano e sono azzardi suoi poi però si salva a metà con i cambi più merito o fortuna ocafor il tempo del pareggio arriva il lampo del pareggio arriva all'improvviso ma azzecca per importanza e bellezza ocafor 7 4 io ho messo peggiore in campo ciuc qui c'è da scegliere ciao 4 la galleria degli errori a me ciao non convince non è tornato il ciao che conoscevamo prima dell'infortunio impacciato e lì c'è da fare un pensiero adesso c'è paulovic pensiamo anche a gabbia e pensiamo anche al discorso di calolù che forse è il meglio di quelli che sono lì come aggressività la galleria degli orrori parte con un mancato anticipo su sanabria autogol scioccante e incomprensione con teo sul raddoppio ospite raddoppio è una cosa andiamo agli altri voti megnan 6 e mezzo calabria 5 primo colpevole sul vantaggio granata non certo l'ultimo ma quel filtrante di sanabria non deve mai passare 6 tomori il meno peggio 4 e mezzo se ne mecher parte con brio ma niente benasser 5 ecco a me benasser avevo messo 6 e mezzo sul 5 non sono d'accordo ma ci sta si abbassa si alza galleggia ma non trova mai la misura del passo parente lontano del centrocampista loftus 5 e mezzo loftus per me peggio loftus che benasser andamento lento là in mezzo buona intuizione quando lancia leao campo aperto 4 e mezzo ciucueze che fino ha fatto il ciuc Pulisic prima il suo strappo 5 il 5 di Pulisic signori per me è il fatto che io lo metterei a destra e non lo metterei là 5 e mezzo leao croce si mangia un paio di gol delizio quando fa paura e la palla per Morata sprecata è un cioccolatino io vi 5 e mezzo mi sembra alto 6 e render 6 e mezzo Morata Morata che coraggio fosse durata avremmo vinto non bellissimo perché c'è stato solo un pareggio ma abbiamo dato un messaggio bel gioco esappata Manoli serata quasi perfetta complimenti ai miei giocatori signori il Torino ha giocato meglio del Milan l'occhio di Falco non ci vede il gol del Torino è valido ma l'orologio non funziona questo è incredibile questo è incredibile che neanche la gol technology figlia del gol di Montari non funziona perché se non l'avessero vista e non avesse fermato il VAR sarebbe stato un furto clamoroso a favore del Milan che oltretutto lì c'era poco da rubare poca Inter partenza falsa super Turam ma troppi errori il Genoa brinda nel recupero Lautaro fatica Danfri si inserisce il turbo Inzaghi 6 con i cambi ottili 2 a 1 deve ritrovare solidità difensiva e cattiveria agonistica Inzaghi la difesa è fragile regalare due golone da Inter così non si vince Turam Marco è subito al toto torniamo al lavoro e spunta il tridente grande intrigo Samarzic Dea può liberare Coppa la Juventus e si apre il duello su Gonzales perché la Juventus l'Atalanta voleva andare su Gonzales e ha chiuso per Samarzic in emergenza all'Atalanta a Lecce il Paris Saint Germain tenta Lukman lui ha sondato il giocatore ha sondato il giocatore e ora farà un'offerta intanto sentite i tuoni Motta inizia in salita Tiago obbligato è avanti con 4-1-4-1 e ha dei problemi proprio di numere Allarme Conte, Napoli anno zero, lo scusato vinto è stato un tranello Di Bala c'è per ora, parte in panchina Assignon ci siamo, da quello che risulta a me non è che il Ren abbia intenzione di darglielo Belparma è una perla viola, 1-1 vai tra Empoli e Monza, vince solo la prudenza alla prima giornata di campionato Milano parte male, i meriti di Vanoli, è vero Sfida il maestro, Maresca debuta contro Guardiola lui è un genio ma datemi tempo De Zerbi parte con il botto Cinquina del suo Marsiglia a Brest Doppiete di Greenwood e Luisa Enrico ci dà tanta fiducia Lo Spezia scatta sul 2-0 ma 2-2 poi nel finale siamo contenti per Pippo che non ha perso Salernitana finale pazzesco perché ha segnato al 48esimo e al 52esimo il Salerno sono impazziti Super Pippo Felice parte con un 2-2 come suo fratello il 2-2 sono venuti al 51esimo segna il gol dell'1-2 poi al 34esimo Modana ha beffato perché il gol è arrivato anche qui tardi al minuto 45 secondo tempo Bari è subito un flop Longo 1 in prova deludente la Juve Stadia vince 3-1 al Cenasti alla Cremonese Sinnero un colpo di testa la rivincita di Yannick forza mentale ai quarti batte Rublev che lo aveva battuto a Montreal ora mi sento bene e l'azzurro ecco questo andiamo subito allora a Tutto Sport titolone Tutto Sport che spero ecco Toro da pazzi Milan sotto 2-0 poi la rimonta domani Coop lo fa Douglas l'Inter stecca e Messias non perdona Toro Bello dice Tutto Sport e ha ragione con l'articolo di Giovanni Tosco peccato brucia ma ci siamo è giusto il rimpianto il rimpianto dei giocatori e dell'ambiente Granata Ibrahimovic tiene un posto per Cone prima però devono partire almeno due uomini Adlipo vega verso l'addio ma dalla rabbia può arrivare un'offerta per Benasser ieri schierato titolare qui perché il Milan mi ha voluto fortissimamente poi parleremo nel video di oggi di Ibrahimovic c'è un nuovo assalto per Van den Bosch per il Toro Di Gregorio si tuffa sull'eredità di Tec Fabregas Orgoglio Como a Torino col nostro Credo Cobbminer Gonzales un lieto fine settimana siamo ancora fermi da Gonzales e Cobbminer da tempo sentite la pioggia su Milano con se sono in pol se il porto lo presta e Chiesa va via la Juventus non è che parte con degli obiettivi poi fa sempre un po' fatica stecca Inter non basta Turam Sinisa lo sento vicino dice Vigliacco vogliacco vogliacco che 25 anni lo sento vicino il genolo di Mialovic gli dedica il primo gol ha sposato una delle figlie di Siniscia Conte si lamenta mi aspettavo meglio andiamo non mi interessano le pagelle ma le pagelle andiamo a vederle sul Corriere dello Sport il Corriere dello Sport eccolo qua dice che Fregaturam è il titolo Fregaturam è il titolo del quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni andiamo subito a prendere la testata Fregaturam doppio Marcus ma l'Inter sbatte Milan Salvo con Morata e Ocafor messi a sbeffa i campioni andiamo a leggere lo leggerò oggi l'articolo di Franco Ordine su Ibra andiamo a leggere le pagelle di Antonio Vitiello 5 Fonseca Mignan 7 Calabria 5 Ocafor 7 Tomori 5,5 Ciao 4 ecco loro hanno messo i giornali hanno messo tutti Ciao peggiore invece io ero perciuca ma c'è da scegliere Selemeker 5,5 Benassert 5,5 Render 5,5 Loftus 5,5 Cukueze 5 Hernandez 5,5 Pulisic 5 Musa 6,5 Leao 5,5 Jovic 4,5 Morata 6,5 Fonseca mezzo passo passo all'esordio la fase difensiva è tutta da rivedere è quello il problema noi abbiamo preso perché migliorasse la fase difensiva di Pioli e invece non è migliorata ieri abbiamo visto le stesse problematiche di un anno fa anzi Zlatan lancia Fofanà ideale per il Milan ho avuto pazienza non vedevo l'ora di essere qui in rosso nero voglio vincere questa è l'ultima voglio ricordare che è scomparso all'endelon gli dedicherò sul mio profilo Instagram un post se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale di Carlo Pellegatti attivate la campanella e scaricate il link in descrizione con la pioggia su Milano un abbraccio Grazie a tutti